Torniamo a occuparci della marcatura con il logo CE, dopo aver approfondito la sua importanza dal punto di vista dei consumatori, oggi scopriamo cosa devono fare i produttori. Lo facciamo con l'aiuto della dottoressa Mai della rete italiana di Enterprise Europe Network che è nei nostri studi di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, quali sono le finalità che si vogliono raggiungere con questo logo e su quali prodotti lo dobbiamo trovare? La finalità del logo CE è garantire la sicurezza del prodotto sulla base dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria. La tipologia di prodotto oggetto di marcatura CE è particolarmente vasta. Non esiste un elenco alfabetico. Si tratta di categorie di prodotti identificati ad esempio in base al destinatario, i bambini, o il funzionamento elettrico-elettronico. Qualche esempio? Giocattoli, pc, cellulari, ma anche occhiari da vista. È necessario distinguerlo da un marchio di qualità o di origine? Sì, è assolutamente necessario. Il logo CE è un obbligo, quindi se previsto occorre metterlo, non è una scelta su base volontaria. I prodotti marcati CE possono anche provenire da paesi extra-way. Quindi il logo CE garantisce la sicurezza, ma non è sinonimo di origine prodotto. Ecco, a chi spetta apporre questa marcatura? La marcatura CE è apposta dal fabbricante. Occorre prestare particolare attenzione ai requisiti grafici per la riproduzione del logo CE, onde evitare confusione con il marchio cinese China Export. Il logo CE è il passo finale, il simbolo visivo della conformità del prodotto. Oltre al logo CE, il fabbricante deve anche produrre una documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità. Un'ultima cosa, quali sono le indicazioni principali che si possono fornire alle aziende interessate? Occorre innanzitutto verificare se il prodotto rientra nell'ambito della marcatura CE. Se vi rientra, occorre consultare attentamente la relativa normativa, direttiva o regolamento e le linee guina disponibili sui siti della Commissione europea. Infine, occorre valutare attentamente le tempistiche necessarie per proseguire il tutto. Bene, grazie. Come sempre, per altre informazioni si possono consultare la pagina Facebook, l'account Twitter o il sito della rete italiana di Enterprise Europe Network. L'indirizzo è een-italia.eu. E grazie ancora alla rete italiana di EN per la collaborazione. Grazie. Grazie.